Ciao, questo è un breve video in cui mi tingo i capelli con te. Quello che vedi è un balsamo colorante semipermanente. Non si tratta di un prodotto naturale, ma almeno non dovrebbe avere ingredienti dannosi in quanto viene considerato una sorta di impacco riparatore per i danni dello schiarimento. Non è testato su animali, è senza ammoniaca e la consistenza è simile ad un gel. L'ho acquistato su ebay da un rivenditore dell'Inghilterra per circa 6 euro e la colorazione che ho scelto è dark tulip. Il tempo di posa consigliato dal brand si aggira intorno ai 15-20 minuti, tuttavia la resa migliore si ottiene tenendola in posa dalle 7 alle 12 ore, dicono i pareri online, però quando l'ho applicata era già pomeriggio e avendo poco tempo l'ho tenuto 4 ore e mezza ed è più che abbastanza. È possibile utilizzarlo sia su capelli bagnati che su asciutti, la cosa bella è che non puzza come una classica tinta. Questa marca, la Rikke Direction, offre una vastissima gamma di colorazioni, anche miscelabili tra loro. Tra i più colori pazzi e originali, il colore prende di più sui capelli decolorati perché appunto è un impacco riparatore, in quanto fortifica il capello e lo rende più lucido. La cosa negativa di questa tinta è che macchia molto. Non saprei darti la certezza di quanto possa durare perché è questa la prima volta che la utilizzo, però posso confermare che i miei capelli hanno ripreso vita. Adesso risultano splendenti, senza doppie punte o nodi e morbidissimi al tatto, tenendo conto che ho solo risciacquato la tinta, senza mettere né balsamo né alcun prodotto per lo styling. Non potrei aver potuto ottenere risultato migliore di questo. Spero solo non sia una cosa temporanea. Un bacio!